Due determinanti notizie di calcio mercato vi offro in questo video. La prima, Charles va all'Ellas Verona, il centrocampo va a riempirsi di costui. L'Ellas infatti ha ufficializzato l'acquisto di costui, ragazzo brasiliano che arriva dal Pitoria. L'altra notizia confermata è che Duvan Zapata diventa a tutti gli effetti un giocatore del Torino del Toro, l'attaccante viene a titolo definitivo per 5 milioni e mezzo di euro più i relativi bonus. Dunque Zapata al Torino e Charles a L'Ellas Verona. Bene, grazie a tutti, ciao a tutti da Maravere.